Salve amici e bentornati sul canale. Oggi siamo qui per la seconda puntata della rubrica Leggilo perché. Ha riscosso abbastanza successo, non me l'aspettavo, sono stata contenta e quindi proseguiamo e andiamo avanti con i nostri consigli di lettura. Io ho pensato di ideare questa rubrica per consigliare in maniera spassionata dei libri che mi sono davvero piaciuti. E diciamo più che concentrarmi sulla trama, Leggilo perché vuole dare consigli in base proprio alla spinta emotiva che ci può dare una lettura. Quindi vi motiverò un po' il perché mi sono accostata, avvicinata a queste letture e il perché secondo me potrebbero fare al caso vostro. Partiamo subito. Vi presento uno dei miei libri preferiti scritto da uno dei miei autori preferiti che è Joel Dicker. È l'autore Il libro dei Baltimore, la casa editrice è La nave di Teseo e l'autore ha scritto La verità sul caso Eric Hebert che da poco tempo è uscita la serie tv su canale 5. Mi è sembrato di averla vista lì però credo che sia anche su qualche altra piattaforma. Purtroppo l'ho persa questa serie tv, spero di recuperarla in qualche modo. Non so se l'avete vista comunque vi consiglio sempre prima di leggere il libro. Allora questo libro ve lo consiglio perché? Intanto parliamo della trama solo tre parole. È un libro di formazione perché parla dell'amicizia tra due cugini adolescenti e della loro appunto formazione e crescita in questi anni molto delicati. Siamo comunque in America e parla di famiglie americane benestanti e famiglie americane che non se la passano molto bene quindi anche differenze sociali e culturali. Parla di legami familiari e di queste due famiglie appunto di questi due cugini. Parla di bullismo e diciamo le tematiche sono diverse. In qualche modo parla anche di amore. È un libro che ve lo consiglio leggilo perché se hai il blocco del lettore diciamo che può capitare no? A noi lettori forti specialmente magari di avere un blocco, di essere un po' stufi, di leggere magari lo stesso genere, le stesse cose oppure semplicemente non ci va di leggere per un periodo e allora ci serve qualcosa di stimolante. Questo sicuramente è un libro che aiuta chi ha il blocco del lettore perché Joel Dicker ha questa scrittura coinvolgente. Veramente io sono rimasta rapita da questo libro in particolare perché veramente cucinavo in casa, facevo le mie cose e appena avevo un secondo tornavo subito al libro per leggerlo. Sono tipo 600 pagine, circa 600 pagine, l'ho letto in neanche una settimana e quindi è scorrevole, è entusiasmante, vuoi andare avanti di capitolo in capitolo per capire come si evolve la storia. È comunque un giallo, un thriller a quest'alone di mistero. Quindi lo consiglio sia ai maschietti che alle femminucce, insomma a tutti, soprattutto a persone che hanno così, vogliono leggere qualcosa che in pochi giorni lo vuoi divorare come libro, quindi di leggere qualcosa di stimolante, di sorprendente e è anche una storia che poi resta nel cuore. Io ho amato molto i personaggi, tanto i protagonisti, mi sono anche commossa e a me piace la scrittura di Ticker, poi ognuno insomma è libero di dare il suo parere, anzi lasciatemi sotto nei commenti i vostri pareri in merito a questi libri, se li avete letti, se vi incuriosiscono e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e lasciatemi sempre un like. Quindi questo consigliato. Andiamo avanti con un altro libro che ho amato, altro mattone. Ora uscirà il terzo di questa quadrilogia dell'autrice francese Christelle Dabot. La quadrilogia è dell'attraversa specchi, il primo libro era fidanzati dell'inverno e questo è gli scomparsi di Chiardi Luna. Io vi chiedo scusa per la voce ma ovviamente è appena iniziato settembre e io già ho preso il raffreddore. Allora, questa saga dell'attraversa specchi è straordinaria, io non leggo fantasy in generale, però mi sono accostata un po' a questo genere e lo sto davvero apprezzando. Soprattutto questa quadrilogia è meravigliosa, si divora e lo consiglio a chi? Leggilo perché? Perché magari non hai mai letto un fantasy e quindi come me ti vuoi avvicinare ad approcciare a questo mondo. È un mondo davvero descritto benissimo, soprattutto nel secondo libro più del primo. I personaggi sono accattivanti, sono stravaganti, ti rimangono comunque impressi nella mente perché sono descritti in maniera anche bizzarra perché sono davvero bizzarri. La storia è sicuramente coinvolgente, abbiamo una ragazza che ha dei poteri particolari, quello di appunto attraversare gli specchi e di leggere gli oggetti. E c'è una storia d'amore e nello stesso tempo anche qui c'è un alone di mistero, di giallo e tanti tanti misteri da svelare e da scoprire. Infatti sto aspettando con ansia ad ottobre uscirà il terzo di questa quadrilogia e leggilo appunto perché ti sorprenderà, ti stupirà la scrittura della Dabbo e sicuramente ti terrà incollato alle pagine in maniera comunque entusiasmante e leggera, quindi straconsigliato. Non ce la faccio più a parlare. Ultimo libro, questo è più piccino, si legge in due o tre giorni, di Kent Aruf che sicuramente lo conoscerete per la trilogia, oddio ora non ricordo, Benedizione, gli altri due titoli non mi li ricordo, comunque la trilogia di Holt mi sembra sia. Io la devo leggere ancora con la trilogia e ho letto invece le nostre anime di notte. Devo dire che è un autore che mi è piaciuto tantissimo, delicato, scrive in maniera diretta, cioè senza troppi giri di parole, va subito al dunque, almeno a me è sembrato così. La sua scrittura è piena di immagini, riesce a darti subito delle descrizioni forti, ti riesce a delineare i personaggi con poche parole ma con caratteristiche subito ben disegnate appunto e con poche pagine racconta un mondo. Le nostre anime di notte leggilo perché è una storia d'amore meravigliosa tra persone mature, quindi parliamo di persone sopra i 60 anni che scoprono l'amore comunque a quell'età, si vogliono rimettere in ballo, si vogliono rimettere in gioco, leggilo perché ti darà emozioni, ti farà commuovere ma nello stesso tempo ti farà riflettere anche su tematiche alle quali magari non hai pensato come ad esempio l'amore fra persone che hanno più di 60 anni, quanto è compitaccato rimettersi in gioco in amore ad una certa età, parla di solitudine, parla di mancanza sotto più aspetti, quindi la mancanza del coniuge se viene a mancare, la mancanza dei figli che da adulti prendono le loro strade e magari tendono un po' abbandonare i genitori, cioè a staccarsi e magari a star meno dietro loro, quindi c'è questa forte solitudine, davvero commovente, davvero delizioso, quindi lo consiglio a tutte le persone un po' romantiche che hanno voglia comunque di speranza, ma hanno voglia anche di una storia che lascia il segno, sicuramente una storia che lascia il segno, te la porti dentro nel tempo e consiglio su Netflix anche il film, davvero davvero bello ho visto il film, davvero bello anche il film, comunque leggete sempre prima il libro. finisce qui la mia rubrica leggilo perché, spero vi sia piaciuta, vi abbia comunque intrattenuto, ispirato magari, vi mando un mega bacione, mi raccomando lasciatevi sempre un like e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale.